Poi, se invece siamo fortunati, tipo d'estate, abbiamo la nostra litoranea. Ce l'avete presente la litoranea? Sì, 42 km sul mare, no? Curve, fichissime. È una delle strade più belle del mondo. Non so se l'avete mai fatta di notte. C'è il safari, organizzano il safari. Sì, sì, sì. Noelle ha presi da là gli animali. Io ho visto di tutto, cinghiali. Non sto scherzando. Lì c'è un safari. Credo che sia proprio organizzato un safari. Noè ha preso gli animali, le coppie le ha prese da là. Cinghiali, no? Avete visto? Vi ha attraversato di tutto davanti alla strada. Cinghiali, maiali, mucche, zebre. Una volta si è persa dal circo orfei. Io una volta ho visto anche un unicorno. Stavo rientrando da un rave party. Non so se era vero o se non era vero, ma comunque l'ho visto. Io l'ho visto.